Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Darkland 504 Eccoci qui con un video dedicato ai miei iscritti E' vero, sarà un contest Allora, da poco ho raggiunto, ho superato la soglia dei 10 iscritti Che per me è stato un traguardo abbastanza positivo e anche abbastanza raggiungibile Dato che il canale ha aperto da un mesetto E siamo arrivati anche a 13 iscritti E quindi volevo fare un contest per gli iscritti o per chi si iscriverà Allora, per partecipare al contest dovete mettere Dovete guardare il video Il video del contest qua Che state guardando Mettere mi piace al video Condividere il video sui vostri social network Scrivere un commento con scritto sotto partecipo Perché se io non vedo la scritta partecipo Per me non partecipate al contest E quindi avete perso E poi mettere mi piace alla mia pagina di Facebook Che ricordo Darkland 504 E i premi in paglio sono molto belli Molto richiesti anche Allora Il primo Il primo premio è 50 euro sul vostro account di Steam Poi Due account premium di Minecraft E poi Forse questo qui è il premio che A meno Io preferisco Volei vincerlo Il mouse G Scusate G502 della Longitech Da gaming Appena uscito Dal valore di 84,99 euro Proprio qua sul sito della Longitech Quindi vi sto dicendo Pesserie Costa così E quindi Chi lo Chi lo vince Chi vince Potrà scegliere Tra i premi E mi auguro che Scegliate questo Perché è molto Molto carino O anche altro Cosa sceglie Cioè Uno sceglie quello che vuole Come vedete il mouse Guardate le immagini È molto Bello È molto leggero Da quello che avevo letto Su vari siti La registra è anche A 20 milioni di click Quindi è proprio Un mouse Pazzesco E quindi È proprio E quindi Per questo video è tutto Partecipate al contest E un saluto a tutti Da Darknet504 Ciao